Sta bene? Si è preso il silenzio? Sto bene. Sto bene, perdonami. Le mie ferite si vedono da fuori, ma le sue stanno dentro, no? Ci sono cose che mi sconcertano la mente. Perché una persona non si difende quando è innocente? Può essere stato deluso. A volte ti senti troppo triste per difenderti.